Che giornata, che giornata, ma che giornata è! Ho perso il conto dei contenuti che abbiamo fatto uscire tra ieri sera, oggi, domani, quello che succederà. Veramente, abbiamo fatto di tutto e di più, di tutto e di più abbiamo pubblicato. Questa volta parliamo di una partita finalmente, parliamo di una partita importante, di una partita che ci regala, ci regala una semifinale europea all'interno di una stagione che questo 20 di aprile del 2023 deve essere il giorno in cui la stagione ricomincia per finire bene, ricomincia per finire bene, perché è stata una brutta, bruttissima stagione fino adesso, in generale, dal punto di vista di diverse prestazioni, dal punto di vista di alcuni risultati come la Champions, dal punto di vista di quello che è accaduto dentro la stagione, come la penalizzazione, come le dimissioni di CDA, tutto quello che è accaduto. È stata una stagione che, fino adesso, non ci ha regalato emozioni. Stasera ho sofferto, mamma mia se ho sofferto, ecco, ci tengo subito, una cosa che mi preme, fare i complimenti, i complimenti allo Sporting Lisbona, perché loro sono una squadra che in questa Coppa riponeva davvero diverse speranze, diverse aspettative, dopo un campionato nel quale non stanno facendo benissimo, non sono nelle primissime posizioni, non si giocano il titolo, quindi non erano contenti di questa cosa, hanno eliminato l'Arsenal, sono arrivati a giocarsela, secondo me nemmeno la pari con la Juve, qualcosina di più, perché tra la partita andata e quella di ritorno, io ho visto un ottimo sport in Lisbona e tutte e due le volte andata e ritorno ci ha fatto tremare nel finale, ci ha fatto tremare nel finale perché c'era questa costante paura da parte mia, paura che la partita potesse essere riaperta, un paio di errori individuali, quello di Danilo, quello di Pogba, la difesa 4 che stasera non mi è sembrata ermetica come quella a 5 quando abbiamo giocato con la difesa 4, davvero diversi errori, questa perenne mancanza di palleggio, questa perenne mancanza di lucidità nel gestire un'azione, nel gestire la palla negli ultimi metri, nel riuscire a far male concretamente su un'azione manovrata e non su calcio piazzato, sembrava già una partita che si era messa in un'altra direzione, quindi una partita se vogliamo anche un po' più facile da portare a casa per la Juve, poi riaperta su un calcio di rigore, era stato un brutto primo tempo, perché anche loro nel primo tempo non è che avessero fatto chissà che cosa, poi sono venuti fuori nel finale gli ultimi 20-25 minuti, 30 anche forse, sono stati minuti che mi hanno fatto sudare freddissimo, freddissimo, sarò onesto con voi, in queste settimane continuavo a interrogarmi su quale sarebbe stato il mio umore al termine di questa due giorni, mercoledì, giovedì, sentenza più Europa League, tiro un sospiro di sollievo, tiro un sospiro di sollievo incredibile, perché non avevo buone sensazioni da parte del campo, ero un po' più tranquillo dalla parte appunto del ricorso che si è trasformato in un annullamento con rinvio, avevo paura di uscire stasera e avevo paura comunque che potessero confermarci questa penalizzazione e ritrovarci in un fine settimana in cui ci ritrovavamo a preparare una partita importante comunque come quella contro il Napoli con un meno 15 confermato nell'eliminazione europea, per fortuna questa cosa non si è confermata, però stasera ragazzi io sono felicissimo perché passiamo il turno ma sono altrettanto preoccupato per quella che potrà essere poi il modo di arrivare in fondo, perché adesso vado a vedere anche un attimo gli altri risultati, mi perdonerete, se non li so ancora, sapevo che stava vincendo per due reti a zero il Siviglia, infatti ha vinto per tre reti a zero, quindi l'avversario della Juventus al prossimo turno in semifinale di Europa League sarà il Siviglia, un'altra squadra che in questa stagione in teoria ci è stata venduta come una squadra che sta facendo fatica e probabilmente effettivamente è così, però è una squadra che comunque arriva all'interno delle migliori quattro europee e solitamente quando il Siviglia arriva così là in Europa League, sappiamo bene che il suo territorio diventa complicato, poi andremo ad analizzarla sicuramente. L'altra che passa al turno successivo è il Bayer Leverkusen e vedremo la Roma, dato che in questo momento sono in parità, 2-2 tra i dati ritorno col Fenor, ma questo ci importa poco, pensiamo noi perché eventualmente la Roma si potrebbe trovare soltanto in finale. Mi preoccupa comunque questa Juve perché capisci che arrivati a questo punto ancora non hai un'identità strutturata, hai avuto il 3-5-2 fino adesso, ti presenti nella partita più importante dell'anno col 4-3-3, è tridente, è difesa 4, è difesa 5, tra centro campo, due centro campo, cioè qual è la volontà della Juve di arrivare a questo finale di stagione? Cioè ci sono ancora troppi interrogativi, ancora troppi punti di domanda che sono aperti e ci sono ancora troppe cose sulle quali non lavoriamo, difendiamo bassi ma quello non è il problema, basterebbe ripartire ma non ripartiamo, non siamo abili nel ripartire, abbiamo una transizione quando recuperiamo palla sempre orientata all'indietro, sempre a cercare la transizione difensiva invece che predisporci per cercare di andare a far male alla porta avversaria. Oggi abbiamo giocato con un tridente, chiesa di Maria Evlaovic che dovrebbe essere meraviglioso, invece ci ritroviamo a vederli e a dire cavolo ma è possibile che non si riesca a strutturare mezz'azione, mezz'azione né ripartenza né manovrata, con questi tre attaccanti che secondo me ci invidiano un po' tutte le squadre in Italia, ce le invidiano sicuramente, ce le invidiano probabilmente anche all'interno di questa stessa Europa League, ora che è stato eliminato il Manchester United perché Juve United erano le due squadre più accreditate se vogliamo a livello di rosa, ora penso che bene o male a livello di rosa la migliore è rimasta all'interno dell'Europa League sia appunto la Juventus, quindi è possibile che ci si ritrovi sempre a soffrire così tanto in questi ultimi minuti di una partita che potevi mettere su tutt'altri binari perché eri riuscito pure ad andare in vantaggio, cioè sui stessi interrogativi io me ne rendo conto che diceva le stesse cose nei post partita, però mi rendo conto anche che siamo al 20 aprile del 2023 e queste cose non le abbiamo mica sistemate, se te continui a ripeterle da settembre, da ottobre e non le sistemi, cioè la Juventus è una squadra che ha un atteggiamento prettamente difensivo, il che significa che ti auguri, ti aspetti, che almeno quindi difenda bene, ma ci sono andate e ritorno con lo Sporting delle occasioni colossali dello Sporting nel finale sempre, all'andata il miglior in campo erano stati i due portieri della Juventus, è scesne per in, la passi, passi avanti, nel senso che passi il turno, però tutta questa tranquillità ragazzi faccio fatica ad avercela, proprio perché arrivati nelle prime quattro tutto può accadere e qualsiasi squadra arriva in questo momento, in questa posizione qui, crede nella vittoria finale, è destinata a credere nella vittoria finale, quindi un po' di paura, un po' di preoccupazione, questo sì. Concludo una cosa che non avevo ancora detto, mi è dispiaciuto tanto per Fagioli, che questa sera esce dai titolari e non si fa neanche un minuto, viene naturale pensare all'errore di Reggio Emilia e alle lacrime di Reggio Emilia e mi auguro che non venga riservato lo stesso trattamento a Fagioli, che è stato riservato invece a Miretti, che ha fatto una buonissima partita e secondo me è uno probabilmente dei più positivi in campo Miretti questa sera, dopo l'errore proprio con il Benfica, mi pare proprio Lisbona, tra le altre cose dove usciamo dalla Champions, quindi davvero spero che non sia stato bocciato definitivamente Fagioli, perché sarebbe semplicemente una follia nei confronti di quella che è stata l'ottima stagione che invece ha fatto fino adesso. Bene, benissimo, meravigliosa la qualificazione in semifinale, meravigliosa. Stasera andiamo a letto con 15 punti in più per il momento e una semifinale europea raggiunta. Tutto meraviglioso, voglio anche pensare, posso dare lontanamente l'alibi anche se ci credo davvero il giusto che questa gara possa essere stata influenzata da quello che è accaduto, ripeto, ci credo il giusto, provo a darlo. Però ragazzi adesso basta, cioè veramente adesso basta, è il momento del finale di stagione, è il momento di una semifinale europea, ci siamo arrivati, non mi va più di partecipare, non mi va neanche più di nascondermi, siamo la squadra che più di tutte deve provare a vincerla, questa coppa e abbiamo necessità di migliorare incredibilmente per poterlo fare. Perché non basta, non basta il nome, non basta chiamarsi Maria, non basta chiamarsi Chiesa, non basta chiamarsi Vlaovic, bisogna poi dimostrare e per dimostrarlo bisogna valorizzarlo e per valorizzarlo bisogna passare da diverse cose che purtroppo la squadra in campo ancora in questo momento non fa e siamo decisamente in ritardo sulla tabella di marcia. Un abbraccio ragazzi, buonanotte, forza Juventus, godiamoci questa semifinale, godiamoci questi 15 punti in più e poi chi vivrà vedrà.